È la prima volta che Romina Carrisi appare in televisione con il padre Albano da quando è in dolce attesa. Incinta di otto mesi, la 36enne partecipa al salotto di Verissimo per condividere con il pubblico le emozioni legate alla gravidanza imminente. Il bebè in arrivo è un maschietto, frutto dell'amore tra Romina e Stefano Rastelli, 53 anni, regista esterno della RAI. La gravidanza si avvicina alla sua conclusione, e Romina confessa di non avere ancora pronto il corredo per il parto. Afferma, manca solo un mese, ma la valigia non è ancora pronta. Non ho ancora deciso cosa dovrò mettere. Il bambino nascerà a Roma, e sebbene abbiamo un nome nel cuore, non abbiamo ancora preso una decisione definitiva. Preferiamo mantenere il mistero per il momento. Il padre, Albano, visibilmente commosso, condivide il suo stato d'animo, ho già avuto sei figli, ma non so cosa bisogna mettere nella valigia. Sto realizzando sempre di più che la mia Romina sta per diventare mamma, me ne sto davvero rendendo conto. Romina, il cui secondo nome è Yolanda, come mia madre che mi manca molto, è stata una donna straordinaria. Se ne è andata come una candela, senza voler pesare sugli altri. Diceva sempre che, non serviva più su questa terra, ma io le ribattevo sempre che era indispensabile. Era attaccata ai valori sani e tradizionali, viveva per dare piuttosto che ricevere. Trasmettere questi valori è fondamentale, e sono davvero felice quando ricevo complimenti per i miei figli, perché significa che ho fatto un buon lavoro. I figli possono essere giudici severi, e lo capisco bene, perché anch'io sono stato figlio. Il pancione di Romina è sempre più evidente, e la futura mamma non vede l'ora di conoscere il suo piccolo. Nonostante il desiderio di partire con il compagno, impegnato per lavoro in Australia, Albano e Romina Power hanno impedito il viaggio. Albano spiega la decisione. No, perché Romina rischiava di perdere il bambino. Aveva deciso di andare alle Maldive, ma durante una traversata il mare mosso stava provocando un aborto. Io volevo rimanere in Puglia, ma lei voleva fare un ultimo viaggio prima della nascita del bambino. Comunque, alla fine, tutto è andato bene.